direttamente all'Allianz Stadium di Torino Juventus batte Salernitana 2 a 0 con reti di Dybala al quinto minuto e Braovic al secondo al ventinovesimo minuto i tibosi stanno festeggiando questa vittoria molto importante dopo una grande disfatta con il Villareal ragazzi un secondo tempo davvero si poteva fare qualcosa di meglio la Salernitana ha fatto due tiri in porta uno sulla destra di Scesni e l'altro sulla sinistra di Scesni comunque per me è stata un'esperienza davvero stupenda ragazzi e non so quando tornerò a vedere un'altra partita della Juventus qua allo Stadium comunque bella vittoria, grande Dybala e grande Dusan quindi Morata e Braovic giocheranno contro l'Inter non hanno preso il giallo spero che il mio video vi è piaciuto lasciate un like al video commentate, iscrizione al canale se siete nuovi se siete già iscritti cliccate subito la campanella per non perdervi altri miei prossimi video che usciranno seguitemi da su Facebook e anche su Instagram grazie ragazzi e grazie a tutta la tifoseria juventina che mi hanno sostenuto ci vediamo molto presto per i miei prossimi video sempre fino alla fine alla prossima